Le Cecconi con Ghedin e dunque sono in giro al Fleming, vanno in via Flaminia Vecchia ed entrano nella profumeria di un amico Giorgio Fraticcioli. Nella gioielleria però avviene il dramma. Le Cecconi morirà poco dopo al San Giacomo, un re che si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato.